Buongiorno a tutti, ho deciso di fare un salto indietro rispetto alle analisi degli ultimi giorni per andare a ricollegarci in qualche modo con il diario di Cavallero. Con il diario di Cavallero siamo arrivati all'attacco alla Russia del 22 giugno del 1941 e questo elemento ci permette di andare in qualche modo anche a comprendere come le relazioni tra l'Italia e la Germania, di cui stiamo parlando a proposito del 1943, hanno ovviamente un precedente logico in tutto il percorso di analisi dei rapporti nell'alleanza dell'asse. È ovvio che sin dal 1939 alla sottoscrizione medesima del patto d'acciaio vi potesse essere in qualche modo una serie di distinzioni, di incomprensioni, di ambiguità che esistono da una parte all'altra, ma queste ambiguità, queste incomprensioni e queste distinzioni sono aumentate sostanzialmente nel corso del periodo prebellico, i pochi mesi che arriveranno fino al primo settembre del 1939, poi il periodo della non belligeranza e poi quello della partecipazione anche dell'Italia. E mi è sembrato interessante quindi a questo punto fare anche una piccola digressione per poter andare a capire in che modo nei tempi e nelle situazioni vi potessero essere le difficoltà nel tentativo, nella prospettiva di andare a attaccare la Russia proprio quelle prospettive che due anni dopo sarebbero divenute essenziali per comprendere il divario tra l'Italia e la Germania. Vediamo come nell'aprile-maggio del 1943 Bastianini e Mussolini dicano continuamente come una goccia cinese a Hitler e a Ribbentrop che il fronte russo deve essere chiuso, deve essere in qualche modo fermato e invece Hitler e lo stesso Ribbentrop sono convinti della inevitabilità della vittoria contro la Russia. Ebbene, quindi sempre partendo dal presupposto, qui in questa casa, che come vedete l'ambiente è diverso, ho alcuni tomi originali dei documenti diplomatici italiani che ve li leggo in formato proprio originale e quello che mi interessava oggi leggervi erano due documenti del 2 giugno 1941. 2 giugno quindi siamo a circa un anno dalla dichiarazione di guerra italiana e a due anni prima rispetto a quello che stiamo esaminando a partire dal 1943. Detto questo, Brennero uno dei tanti incontri che si ebbero tra le delegazioni italiana e tedesca. Quindi Brennero 2 giugno 1941, colloquio del ministro degli esteri Ciano con il ministro degli esteri del Reich Ribbentrop. Qui c'è una nota che richiama la presenza di questo verbale tratto dal volume di Galeazzo Ciano, l'Europa verso la catastrofe e c'è un'annotazione del curatore del lavoro del Ministero degli Affari Esteri. Contemporaneamente a questo colloquio se ne svolse uno privato tra Hitler e Mussolini al termine del quale furono ammessi a partecipare alla riunione anche Ribbentrop e Ciano. Di queste due sedute, nell'incontro del Brennero, non esistono verbali italiani. Per la prima si vedono le osservazioni fatte da Mussolini a Ciano nel diario e per la seconda c'è il verbale tedesco pubblicato nei documenti diplomatici tedeschi. Ebbene quindi, verbale, riassumo i termini del colloquio col ministro von Ribbentrop. Quindi qui è Ciano che fa una sorta di riassunto. Francia. For Ribbentrop dichiara che le relazioni fra Germania e Francia non sono mutate nel fondo e che non vi è nessuna intenzione di mutarle. I contanti avuti col governo di Vichy sono diretti unicamente ad ottenere dalla Francia tutti i possibili vantaggi contingenti per continuare a sviluppare la guerra contro la Gran Bretagna. A Berlino non si ignora il vero stato d'animo francese verso la Germania. Se la Francia ne avesse la possibilità balzerebbe unanime in armi contro il nemico tradizionale. Per questo l'avvenire della Francia è segnato. Comunque ai fini bellici conviene negoziare con Vichy e particolarmente ottenere l'uso dei porti della Tunisia per i rifornimenti dell'asse in Libia. Vedete, è un problemone che già assilla dal 1941, ma in realtà assillava già al momento della caduta della Francia circa 11 mesi prima. Il fatto che i francesi rifiutano lo sbarco degli italiani a Tunisi non deve destare presso di noi la minima preoccupazione. Gli accordi fra Italia e la Germania nei riguardi di Tunisi sono in piena forza e verranno applicati alla fine della guerra. Russia. Le voci circa prossimi inizi delle operazioni contro la Russia sono da considerarsi destituite di fondamento, perlomeno eccessivamente premature. Questo è il 2 giugno. Il 22 giugno la Germania avrebbe dichiarato guerra, avrebbe attaccato la Russia. Diverso. Da parte tedesca si è risposto con un altrettanta imponente concentramento di forze. È certo che le relazioni russo-tedesche non sono oggi quelle che furono due anni fa. Dalla garanzia dell'assa la Romania è scaturita la diffidenza e l'austerità sovietica. Non ritiene che Stalin voglia compiere la follia di attaccare la Germania, ma se dovesse compierla o se in un modo qualsiasi la pressione sovietica dovesse aumentare, è certo che nel giro di breve tempo l'armata russa verrebbe letteralmente spazzata dalle forze naziste. La preoccupazione maggiore sorge dal fatto che la guerra interromperebbe rifornimenti, i quali adesso, tranne che per i carburanti liquidi, continuano a svolgersi con un ritmo soddisfacente. Turchia. La posizione di questo paese appariva particolarmente interessante al momento della rivoluzione irachena. Von Papen ritenne di poter ottenere dal governo turco il libero transio di armi e forze anche di uomini, ma si trattava di una illusione dell'ambasciatore Papen. In realtà l'atteggiamento turco è ancora riservato e in taluni settori ambiguo. Da parte tedesca si continueranno i tentativi di condurre la Turchia quanto più vicina possibile all'asse, promettendole anche rettifiche territoriali nelle zone di Adrianopoli e la cessione di uno o due isole greche vicino alla costa turca. Spagna. Ribbentrop ha ripetuto che alla Spagna risale la principale responsabilità del ritardo nelle operazioni dell'asse, dovuto alla mancata occupazione di Gibraltar, che nel gennaio-febbraio avrebbe potuto facilmente essere compiuta dalle forze germaniche all'uomo preparate. Ciò nonostante l'asse dovrà continuare a svolgere azione diretta ad assicurarsi l'amicizia spagnola. Nei riguardi i dirigenti della Spagna nazionale, Ribbentrop ha mantenuto le sue riserve sia su Franco che su Serrano, nonché su tutti gli altri elementi dirigenti politici e militari. Interessante come ieri, che abbiamo visto il riferimento alla Spagna di Franco del 1943, che mi sono passati due anni e Franco era in adempiente nel 1941 e lo sarà nel 1943. Quindi anche qui a definire una sorta di continuità in atteggiamenti di tatticismo, di andare a guardare ma ben ponderando anche i rischi e i guadagni. Quindi Franco ha agito con un rischio perché poteva trovarsi che l'Italia e la Germania potessero vincere la Seconda Guerra Mondiale, la Guerra Europea, in realtà ha traccheggiato, per una serie di motivi, ma in qualche modo ha traccheggiato e gli è nata bene. Croazia. Ribbentrop ha manifestato la sua soddisfazione e la piena approvazione della Germania, per quanto è stato fatto in Croazia. Ha ripetuto che questo paese rientra nella sfera italiana, pertanto è d'avviso che l'adesione della Croazia al patto di ripartito deve aver luogo sotto legge da nostra in una città italiana. Nel corso della prossima settimana siamo rimasti d'accordo che predisporrò in tal senso. Sappiamo che in realtà poi la politica tedesca verso la Croazia sarà di diverso tenore e quindi l'Italia verrà a sua mente stromessa. O almeno di massima stromessa. America, il discorso Roosevelt ha dato l'impressione che gli Stati Uniti non siano ancora pronti e Ribbentrop personalmente ritiene che se da una parte giapponese verrà mantenuto un atteggiamento energicamente leale nei confronti dell'asse, gli Stati Uniti non entreranno in guerra. Ha convenuto che da parte dell'asse non conviene, almeno per il momento, polemizzare con Roosevelt sulla base del suo discorso. Sappiamo che da lì a sei mesi sarà il Giappone che prenderà iniziativa. Andamento generale della guerra A detta di Ribbentrop la guerra sarà conclusa entro l'anno, quindi entro il 41, o comunque in questo giro di tempo l'Inghilterra sarà ridotta in condizioni tali da togliere a chiunque l'illusione di una sua possibile vittoria. Peccato che da lì a sei mesi verrà dichiarata guerra alla Russia e all'America. Quindi diciamo che questa previsione di far chiudere la guerra nell'anno 41 è assolutamente fuori dal mondo. Ciò varrà di impedire l'intervento dell'America. La guerra attiva sarà condotta nel Mediterraneo e dall'arma sottomarina. Le cifre di affondamenti degli ultimi mesi e particolarmente del maggio fanno ritenere che entro tre mesi l'Inghilterra debba essere ridotta a cercare un accordo. Ciò non esclude che da parte germanica si continui a pensare all'azione sull'isola, azione che però presenta moltissime difficoltà e che dovrebbe rappresentare una sinfonia di tutti i mezzi militari, dal cannone a lunga cittata all'impiego degli Stukas e alla superiorità travolgente della caccia germanica, senza la quale cosa l'azione è inimmaginabile. A mia richiesta il ministro von Ribbentrop si è impegnato a facilitare i nostri difornimenti in materie prime e ha espresso la fiducia che un accordo verrà raggiunto nei prossimi giorni nelle riunioni economiche di Berlino. E quindi qui abbiamo un altro tassello nella definizione di come Ciano si faccia un po' illudere e Ribbentrop lo rigira un po' come un pedalino. Sempre il 2 giugno abbiamo il verbale di un altro importante colloquio, il colloquio del capo di Stato Maggiore Generale Cavallero, che sappiamo essere tornato da poco dal fronte della Grecia, quindi siamo sempre il 2 giugno e 41, quindi Cavallero si è sostanzialmente insediato e fa un colloquio del capo di Stato Maggiore della Wehrmacht, Keitel. Allora, verbale, Maresciallo Keitel dice Iraq, l'Iraq è crollato, difetto di preparazione, mancanza di possibilità per un efficace e tempestivo intervento, si resiste ancora davanti a Bassora ma è difficile dire per quanto tempo, mancano troppi elementi per avere speranze. Il tentativo di resistere sulle Eufrate non può illudere. La domanda che ci poniamo è questa. Che cosa possiamo fare in questa situazione? A Mosul non abbiamo carburante per i nostri aerei. Sembra strano, ma è così. Eh, e si può fare la guerra contro la Russia? Bah. La Turchia ci ha dato il permesso di trasportare carburanti, ma questi trasporti sono certo volutamente ritardati. Non è più possibile far proseguire per Mosul da Aleppo i rinforzi aerei che qui vi sono giunti. Essi resteranno ad Aleppo per sostenere i francesi, se questi lo richiederanno. Attualmente sono in corso trattativa a Baghdad, non si tratta ancora di armistizio, tutto è trasportato a Mosul dagli iracheni. Siria? Bisogna con ogni mezzo sostenere i francesi. Abbiamo dato armi e carburanti. Mancano carri armati e aviazione. Il problema della Siria è questo. Se si tratta di difendere il territorio, il generale Dens lo potrà fare. Non si può sperare invece che prenda una parte attiva, perché le sue truppe difficilmente conserverebbero la compagine e si trattasse di uscire dal territorio. Già ci sono verificati episodi di defezione con lei. Bisogna concedere allora armi ed eroplani perché la Siria deve essere tenuta ad ogni costo. Sarebbe assai grave se essa cadesse in mano inglese. Basta ricordare che la Turchia, sempre molto indecisa, guarda gli avvenimenti e che l'Inghilterra fa di tutto per trascinarla dalla sua parte. Siamo disposti ad arrivare anche più in là. Se la Siria sarà aggredita dagli inglesi, noi l'aiuteremo. Bisogna quindi che i francesi abbiano i mezzi per combattere. Preghiamo che siano date, in questo senso, positive istruzioni alla delegazione italiana in Siria. Cipro? L'occupazione di Cipro sarebbe assai importante ai fini dell'ulteriore condotta della guerra. L'isola sarebbe un ottimo punto di appoggio per l'aviazione. Conviene studiare se l'operazione è possibile. Fatta subito sarebbe certamente più facile che fra qualche settimana. Con Cipro, Rodi, Creta, Derne e Tobruk in nostro possesso, il dominio del Mediterraneo orientale sarebbe certamente assicurato. Malta, come vedete, non è una priorità per i tedeschi. Da parte tedesca non è possibile provvedere a svolgere questa operazione. La battaglia di Creta è costata perdita assai dure. Bisogna pensare che si è agito solo con le armi dei paragodisti contro gli inglesi armati di carri e di artiglierie. Abbiamo fatto 8.000 prigionieri inglesi. Se è vero che 12.000 si sono reimbarcati, il presidio era di 20.000 uomini. Abbiamo dunque sopportato grandi sacrifici. L'aiuto italiano è stato molto efficace. Anche a detta di tutti i comandanti tedeschi sul posto, noi esprimiamo il nostro ringraziamento. Mi sembra un po' una captazio benevolenza. Cipro in questo momento può considerarsi appena difesa. Non vi è difesa contro aerei. Non vi è aviazione da caccia. L'operazione potrebbe essere fatta soltanto di sorpresa partendo per via mare da Rodi. Un'azione per via aerea non potrebbe avere protezione dalla caccia. Mentre gli inglesi potrebbero far accorrere a Cipro molta caccia dalla Palestina e dalla Transgiordania. Perciò bisogna agire dal mare. Noi in Norvegia abbiamo trasportato le truppe con navi da guerra, celeri, incrociatori e cacciatori per petiniere. Ma bisogna essere sicuri che al momento dell'azione la massa della squadra inglese sia ad Alessandria. Da Cipro potremmo esercitare influenza sulla Francia e in Siria e poi con possesso anche di Greta e di Tobruk potremmo costringere la flotta inglese ad abbandonare Alessandria. Al che interviene Cavallero e dice L'impresa di Cipro è molto arrischiata. Noi abbiamo già in corso uno studio a fondo dell'operazione. Keitel Certamente se risultasse che l'isola è molto difesa faremo fare ricognizioni al riguardo e ve ne comunicheremo i risultati. Che a Cipro vi siano due divisioni come risulta il comando supremo italiano mi sembra esagerato. Non dimentichiamo che gli inglesi hanno adottato sempre il sistema del blef. Replica Cavallero Vi ringrazio per gli ulteriori elementi che potrete procurarci in modo che il nostro studio possa concludersi. Keitel Trattative con la Francia La situazione impone un'intesa con la Francia per la ulteriore condotta della guerra in Mediterraneo in assoluta comunanza di intenti da parte della Germania e dell'Italia. Vi premetto che la questione delle rivendicazioni italiane è fuori causa perché il Führer ha dichiarato che su questo argomento non si discute. Il problema è ora di necessità contingente. Le necessità di rifornimento della Cirenaica ci hanno spinto a richiedere il permesso di sbarcare in Tunisia, limitatamente a rifornimenti. Ciò abbiamo potuto ottenere perché fortunatamente abbiamo in mano qualche cosa da dare ai francesi. Se avessimo scelto la maniera forte avremmo automaticamente provocato la separazione dell'impero dalla Francia metropolitana e avremmo dato forza al movimento de Gaulle. Perciò abbiamo seguito una via opposta cercando una collaborazione europea della Francia con l'asse. La Francia ha ceduto alle nostre richieste sia pure a malincuore, sotto l'incubo del duro inverno trascorso. Bisogna andare per gradi nel valersi della facoltà concessa ci di sbarcare a biserta. Pensiamo che i francesi rischiano molto e precisamente l'ostilità inglese e la disapprovazione delle masse francesi, soprattutto il pericolo di distacco delle colonie francesi per l'Africa del Nord. Proveremo quindi da principio con elementi incivili e con rifornimenti. Avremo così un forte alleggerimento dei trasporti per l'armata del generale Gariboldi. Ci faremo dare dei francesi anche artiglierie di ogni specie e automezzi. Ciò possiamo fare perché abbiamo molto in mano. Basti pensare solo ai prigionieri di guerra. Un ricatto bello e buono. Cavallero, queste artiglierie saranno anche trasportate via Tunisia? Keitel. Sì, i francesi provvederanno ai trasporti e anche alle scorte. Certo che gli inglesi attaccheranno, come già hanno attaccato Sfax. Appunto, per questo abbiamo preferito, anziché Bona, come ci offrivano i francesi, Biserta, perché questa è l'armata e può difendersi. Abbiamo anche ottenuto dai francesi il permesso di costruire un punto di appoggio per sommergibili a Dakar, allo scopo di poter minacciare da vicino Freetown, dove gli inglesi usano concentrare le navi per costruire i convogli. Così noi minacciamo non solo la via... Scusate un attimo che qui c'è una bufera, aspettate un attimo solo. Scusate, ma c'è la finestra aperta e inizia un po' di maltempo, quindi qui è sereno variabile. Dicevamo, abbiamo anche ottenuto dai francesi il permesso di costituire un punto di appoggio per sommergibili a Dakar, allo scopo di poter minacciare da vicino Freetown, dove gli inglesi usano concentrare le navi per costruire i convogli. Così noi minacciamo non solo la via più settentrionale dell'Islanda e il canale, ma anche la via più meridionale dei rifornimenti britannici. Inoltre toglieremo all'America la velleità di parlare di occupazione delle coste dell'Africa occidentale. E una volta che staremo là, nessuno riuscirà a scacciarcene. Sono d'accordo con voi che l'utilizzazione di BISERT è necessità essenziale. Diversamente non potremo portare in Libia artiglierie, autocarri e quanto altro ci occorre. Ma bisogna non minacciare con la pistola, bensì andare per gradi nell'utilizzare le concessioni. Quindi Keitel dice che bisogna essere molto diplomatici. Allora potremo ottenere più di quanto si è contemplato nell'armistizio. Sarebbe gradito che fossero date direttive alla Commissione Italiana di Armistizio perché ci agevolasse su questa via. Ciò perché la questione dei rinforzi e dei rifornimenti a Solume e a Tobruk non è una questione privata della Germania, ma interessa insieme Italia e Germania. La situazione politica nel Mediterraneo oggi è molto migliorata. La Spagna sembra decisa a stare con noi. Il grosso delle forze italiane è ormai libero e utilizzabile nel Mediterraneo orientale. Bisogna prendere provvedimenti positivi nei riguardi della Siria e del Nord Africa prima ancora che gli uomini occorrono le artiglierie, specie contraeri, automezzi, munizioni. Cominceremo a trasportare a biserta, a vivere uniformi, poi le casse che saranno caricate verranno scaricate qualunque cosa contengano. Cavallero. Il concetto del maresciallo Keitel circa la preminenza dei materiali è il concetto del duce che lo ha ripetuto e ribadito. In questo senso è orientato l'apprestamento delle nostre unità per la Cirenaica. Ciò premesso rimane stabilito che i problemi sono due. Primo, quello della Siria, sul quale siamo pienamente d'accordo. Secondo, quello del passaggio attraverso la Tunisia. È chiaro che questo passaggio deve essere dato tanto ai tedeschi quanto agli italiani per poter alimentare le operazioni in Cirenaica. Di questo problema sappiamo che Cavallero nel suo diario lo ha espresso molte volte. nel senso che se i fornimenti dalla Sicilia o dall'Italia devono arrivare in Libia, se passano dalla Tunisia è meglio perché fanno un braccio di mare minore. Ma è ovvio che se la concessione viene offerta dalla Francia, la Germania la deve concederla anche all'Italia. Quello che dice Cavallero, i tedeschi sono un po' più scettici o almeno esternano ottimismo sapendo che i francesi non sarebbero tanto per la quale, i francesi sarebbero contrari. Quindi, è chiaro, prendo atto che per noi questi trasporti sarebbero fatti sotto mascheramento germanica perché sennò lo smestizio non lo permetterebbe. Ciò opposto, mi sarebbe necessario che al più presto possibile fosse stabilito un piano che sarà inizialmente di grande massima e poi verrà perfezionato in modo da poterne deturre anche un piano di tempi per la preparazione e il successivo inizio dell'operazione. Cavallero, è giustissimo, non si possono fare i piani operativi se non si conosce la chiara situazione dei rispondimenti. Cavallero, appunto, perché la possibilità di potenziare la Cirenaica è in dipendenza della possibilità dei trasporti. Desidererei conoscere se il maresciallo Keitel ritiene che col procedimento così avviato sia possibile potenziare la Cirenaica in un tempo ragionevole, sommati i nostri attuali trasporti con quelli che si dirigeranno a Biserta. A riguardo è da tenere presente che a noi è necessario portare giù le nostre unità, le nostre munizioni e i nostri carri. Quello che si prenderà dall'Africa francese è per così dire materiale di servizio generale e arricchisce lo strumento bellico. Ma non è lo strumento bellico stesso. Prevede dunque il maresciallo Keitel che con gli accordi e con le facilitazioni ne concesse il trasporto di quanto ci occorre esclusi gli uomini si potrà attuare in un tempo ragionevole o in avvenire non molto lontano? Keitel, non posso rispondere subito a questa domanda, ma comunicherò elementi di risposta appena possibile. Occorre elencare le necessità in ordine di urgenza. In primo luogo occorre artiglieria pesante a tiro curvo e lanciafiamme per rendere possibile l'attacco decisivo contro Tobruk. L'azione dell'artiglieria è molto più sgradita per i difensori che quella dell'aviazione. Inoltre dobbiamo parlare a un eventuale ritorno offensivo del nemico. È indispensabile perciò avviare in Libia munizioni, carburanti e autocarri. E inoltre occorre assicurare le linee di comunicazione con artiglierie contraeree e artiglierie costiere. Altrimenti faremo i trasporti due volte. Poi vedremo cosa si può fare per la futura offensiva. Occorre tenne presente, anche in base all'esperienza fatta dalla quinta divisione leggera, che in Libia più che il numero contano la qualità delle divisioni, la specie e il numero degli armamenti, l'abbondanza dei rifornimenti. Ora il problema dei rifornimenti è insoluto, ma prossimamente avremo un raddoppio del rendimento. Possiamo vedere quando avremo in Libia non tutte le forze che desidereremo, ma il minimo che riteniamo indispensabile per marciare verso il canale. Con le due divisioni corazzate tedesche, con la corazzata ariete e la trento, messe in perfetta efficienza, si può costruire una sufficiente massa d'urto. Occorrono più indietro due o tre divisioni motorizzate e più le forze occorrenti a guardare le linee di comunicazione. Occorrono poi una forte aviazione, molte artiglierie contraeree e sicuri rifornimenti di carburante, munizioni e viveri. Invieremo poi cannone da 10 cm, che sparano a più di 20 km, ed obici da 21 cm, digittate intorno ai 17 km, così da colpire il cuore di Tobruk. Cannone da 10 cm. Eccellenza Cavallero Ringrazio il Marcello Keitel per quanto ha disposto che, come ho già detto, rispecchia esattamente il contenuto delle direttive gettate al Duce, il quale ha insistito sul concetto della qualità preeminente su quello della quantità, che è esattamente ciò che l'Italia non ha fatto per tutta la guerra. Il nostro primo compito è quello di far sì che le attuali posizioni in Libia siano assolutamente tenute e perciò dobbiamo ricostituire le unità in posto che hanno perduto quasi il 40% dei loro effettivi. Oltre a ciò, occorre rendere liberi il corpo Rommel e la divisione Ariete per la manovra, giacché la nostra occupazione della regione di Solum è labile ed insufficiente e la difesa di quei territori può essere assicurata soltanto dalla manovra. Il secondo punto è quello dell'invio in Libia di 14.000 automezzi, cifra grande ma non impressionante. Poi trasporteremo due o tre divisioni e precisamente la divisione motorizzata Trieste, la divisione autotrasbottabile Piave e la divisione corazzata Littorio. Concordo che non sia necessario portare molte divisioni, occorre però avere una forte massa di attacco. Se poi Tobruk non cade presto, bisognerà prevedere l'impiego colà di almeno un'altra divisione. Tenuto conto che le divisioni Rommel dovranno, come detto, essere rese disponibili per la manovra. Keitel, concordo, vi è il problema delicato di non aumentare il volume della forza in guisa da compromettere le possibilità dei rifornimenti, anche per quanto concerne i carburanti. Occorre in primo luogo provvedere alla difesa contraerea dei punti più importanti e provvedere alla protezione dei trasporti. In secondo luogo bisogna ad ogni costo rinforzare l'aviazione, specialmente da caccia. Bisogna poi invigorire l'assetto di Tobruk per evitare un ritorno offensivo del nemico. Occorre soprattutto artiglieria pesante per dominare l'artiglieria inglese, che spara molto bene. Prego vivamente di fare esaminare in quale modo può essere rinforzata l'aviazione. Non è possibile contare su un aumento dell'aviazione tedesca, date le perdite da noi subite per l'operazione su Creta. Bisognerà dunque utilizzare il mese di giugno per rinforzare Tobruk. Quanto ai rifornimenti di carburante ci varremo delle cisterne provenienti dall'Atlantico che ci tranno i francesi, ai quali le abbiamo chieste appunto in considerazione della penuria di quelle italiane. Cavallero, ringrazio. Prego poi tenere molto presente la necessità che ho segnalata di rendere libere le forze mobili del Rommel, almeno per la più gran parte per assicurare la difesa con controattacco. Altrimenti non potremo sentirci sicuri. A questo scopo riporteremo al più presto in efficienza anche le nostre unità. Circa l'aviazione è già stato deciso di aumentarla, ma anche questo è un problema di trasporti, perché occorre portare prima in Libia il materiale per attrezzare i campi, così per mantenere la linea della caccia abbiamo dovuto limitarci ad inviare motori anziché apparecchi, appunto perché una riserva di apparecchi non avrebbe trovato posto nei campi attuali. Non appena avremo potuto trasportare il materiale per l'attrezzamento dei campi, la nostra aviazione avrà subito rinforzi. Inoltre, per concorrere alle azioni aeree della costa Cirenai, il capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica ha chiesto di ottenere almeno un aeroporto di Creta per aereo a bombardamento, così con tale concessione anche i nostri trasporti verrebbero notevolmente alleggeriti. Keitel, bisogna che le divisioni che saranno portate avanti a Tobruk possano per la loro dotazione di artiglieria neutralizzare le artiglierie inglesi. Circa la disponibilità di un aeroporto a Creta non posso rispondere subito, perché ciò è di competenza del maresciallo Gehring, però a Iria Petra ci deve essere un aeroporto in costruzione. Potreste completarlo utilizzando elementi tratti dai prigionieri italiani con la liberati. Ma, in prima linea, noi dobbiamo preoccuparci della sicurezza delle comunicazioni. Da Creta non si può garantire dalle sicurezza perché la caccia non può giungere sino alla Cirenaica. La disponibilità di forze da caccia in Cirenaica è più importante della disponibilità di forze da bombardamento a Creta. Del resto voi avete aeroporti a Rodi e a Scarpanto, che però sono più lontani. Eccellenza Cavallero, ma Creta presenta migliori possibilità in fatto di distanza. Infatti, quello che vi ho detto. Cavallero, tenete presente che a Creta si dislocherà il decimo corpo aereo tedesco col compio di agire contro la flotta inglese. Cavallero, e anche contro Tobruk. Cavallero, ma solo con aviazione da bombardamento, perché appunto la caccia ha difficoltà. Cavallero, sta bene, ormai i punti essenziali sono chiariti. Quello che importa è ora di avere appena possibile un piano di trasporti che potranno essere effettuati con scalo a biserta. Cavallero, lo farò conoscere al più presto. Cavallero, richiamo l'attenzione su un altro grande problema, quello delle materie prime che mancano all'Italia. È una sorta di leitmotiv. Segnalo, per ora carburante, carbone, gomma. Noi a fine giugno non potremo più navigare. Le industrie sono paralizzate per mancazza di carbone. Il problema della gomma è un problema assolutamente vitale. Keitel, sono al corrente di tutto. Il gene fa la grossa. Verrà presto a Berlino per trattare questi argomenti. Circa la gomma tutto dipenderà da quello che potremo avere dal Giappone. I trasporti sono stati fatti sin qui attraverso la Siberia. Attendiamo ora di ricevere una nave con carico di gomma. Sappiamo che il passaggio alla Siberia fra due o tre settimane non si potrà più utilizzare. Per i carburanti ci siamo... E Keitel lo sa. Per i carburanti ci siamo assicurati il necessario tonnellaggio di cisterne della Francia. E riceverete da Costanza quanto vi occorre. Da Costanza in Romania. L'invio di carbone ha subito ritardi per effetto della guerra nella Balcania. Che ha assorbito i trasporti e che ha creato incessanti inconvenienti. I quali hanno ostacolato il regolare rifornimento. Faremo di tutto per supplire le difficoltà e risalire al milione di tonnellate che è stato cattuito. Cavallero, ringrazio ovviamente. Sempre ringrazio. Keitel, è il mio dovere fare questo. Non si fanno operazioni se non si hanno disponibilità di rifornimenti. Non so se è un consiglio o una reprimenda a Cavallero. Passo ora ad esaminare il problema di sommergibili. Abbiamo riconosciuto la necessità di richiedere un punto di appoggio a Dakar per intensificare la guerra sottomarina contro l'Inghilterra. L'aumento dei sommergibili, finalmente da noi realizzato, rende poi necessario disporre di altre basi per sottomarini. Per questo saremmo riconoscenti se esaminaste la possibilità di rendere libera la base di Bordeaux riportando i posti sommergibili ad agire in Mediterraneo. Non è una questione di prestigio. Si tratta di una necessità, specie attorno a Creta, e per dare sicurezza ai trasporti di carburanti fra Costanza e Cana di Corinto o per le petroliere più grosse per le rotte a sud del Peloponneso. Questa precisazione di Keitel mi puzza un pochettino, nel senso che mi sembra molto una sorta di escusatio, non pedito accusatio manifesto, nel senso che voi mandateli via da Bordeaux, ma non ve la dovete prendere, è solo così da fare. Una sorta di padroni. Quindi, sommergibili, gli italiani potrebbero agire sulle rotte Dardanelli-Pireo a sud del Peloponneso e attorno a Creta. È giusto che il Mediterraneo sia lasciato come campo d'azione agli italiani mentre noi ci allarghiamo in Atlantico da Trongem a Dakar. E poi qui mi sembra molto, anche per levarsi dei piedi, per i rapporti con i francesi, è così l'intuizione. Circa l'ottore condotta alla guerra in Mediterraneo, i tedeschi ritengono necessario mantenere un punto di appoggia a Salonico, dove termina la ferrovia proveniente dalla Germania e disporre della ferrovia Salonica-Atene e del porto del Pireo per i fornimenti del decimo corpo aereo. La guarnigione della capitale greca sarà affidata agli italiani. Nella parte orientale del Peloponneso ci occorre mantenere punti di appoggio con l'aviazione allo scopo di assicurare le comunicazioni Atene-Greta. Così pure dovremmo conservare l'occupazione di Citera, di Anticitera e delle isole davanti all'imboccatura dei Dardanelli, queste ultime per tenere il rispetto la Turchia. Così ci occorrerà mantenere l'occupazione dell'isola di Milo per dare appoggio al traffico Atene-Greta. L'isola di Greta sarà attrezzata potentemente come base aerea per l'attacco contro la frotta inglese. La parte orientale dell'isola, a destra dell'allineamento Baia di Mirabella-Ierapetra, rimarrà occupata agli italiani. Le forze e la versione di Greta dipenderanno direttamente dal marescello Goering e dal governatore dell'isola, che avrà il solo compito di provvedere alla difesa di quest'ultima. A riguardo, faccio presente che tutte le forze armate tedesche dislocate nella Balcania dipenderanno da un unico comandante superiore con uno stato maggiore misto, sede, salunico, e sappiamo pure lì che la faranno sempre dai padroni tedeschi. Cavallero, anche noi abbiamo già un'organizzazione a un dispresso analogo. Keitel, circa Greta, il governatore sarà un generale di aviazione, un generale FMI. Quanto a Tobruk occorre cercare di allargare la breccia che siamo riusciti a fare nella cinta fortificata? Sono sicuro che ci riusciremo con le tre batterie mortali da 210 gettate da 17 km e un gruppo di cannoni da 10 cm gettate da 27 km. Gli inglesi, con le attuali disposizioni di artiglieria, non avranno possibilità di controbattere le batterie anziette se non con l'aviazione. Ma appunto per questo noi manderemo molte batterie contraeree per proteggere queste bocche da fuoco. Ciascuna batteria avrà protezione contraerea e protezione caccia. Occorre molta caccia. Bisogna pensare seriamente a rinforzare questo scacchiere con l'aviazione perché non ci succeda di dover ripiegare sulla linea di Ainé-Gazzala o su quella di Terna-Mechili. Il generale Gariboldi non manca di attuare le necessarie precauzioni a riguardo. Siamo soddisfatti del generale Gariboldi. che apprezza quella testa di fuoco di Rommel. Poi quando entrerà meglio in parte Gambara ci saranno altri nomignoli. Ed interviene con equilibrio e con chiare decisioni. I due caratteri si completano molto bene. Infatti Gariboldi verrà poco dopo mandato via. Il comando supremo tedesco si riserva di far conoscere il suo definitivo pensiero sulla Cirenaica non appena avrà ricevuto rapporti che sono stati richiesti al comando del corpo tedesco d'Africa e che giungeranno attraverso il generale Gariboldi. Infine, prego di esaminare l'opportunità di inviare subito piroscafi a Creta per sgomberare i 27.000 prigionieri italiani Nicola esistenti. Ciò dà delle difficoltà di vettogliamento dell'isola. Cavallero risponde, sta bene, si provvederà senza indugio. Ecco, mi sembra che questi due documenti uno più prettamente politico-diplomatico l'altro più logistico-militare e strategico-militare ci possono offrire in qualche modo come il peso dell'Italia il peso degli esponenti italiani è sempre di rincalzo è sempre un po' un riflesso condizionato rispetto alle sollecitazioni dei tedeschi che hanno sempre il mazzo in mano e lo avranno sempre di più visto che consente appunto che da lì a tre settimane si avrà l'attacco all'Unione Sovietica. Quindi mi è sembrato interessante e poi continueremo domani con un altro scambio in questo caso tra Hitler e Mussolini che ci permette ancora di aprire questa sorta di come dicevo di digressione precedente di flashback potremmo chiamarlo per andare a inquadrare ancora meglio come i presupposti gli antecedenti logici di quell'incomprensione di quella incapacità che si avverrà appunto tra Ribbentrop e Bastianini tra Hitler e Mussolini nella primavera del 43 già era in qualche modo in nuce in questi discorsi che appunto prendono sempre delle strade sempre più lontane diciamo si parte e saranno sempre più divaricate nella loro effettività nella loro plausibilità e nella loro realizzabilità perché poi queste cose sono insostenibili è un po' il discorso che faceva Keitel non si può fare un attacco se non si hanno le capacità e quindi in qualche modo era mettere il dito nella piaga della realtà italiana detto questo come al solito vi invito a mettere mi piace iscrivetevi al canale e alla prossima ciao